Salve a tutti, signore e signori, benvenuti e ben ritrovati qui sul canale, qui su The Zion Theory, io sono ovviamente Spazio. Devo dire, miei cari, che non pensavo, o quantomeno speravo, di non fare il video che sto per fare, perché parliamo ancora una volta, così come accadde lo scorso anno, di PlayStation 4 e Xbox One. Voi mi direte, sono uscite le console di nuova generazione e tu mi parli delle console di vecchia generazione? Ebbene sì ragazzi, perché queste console di nuova generazione, così come era avvenuto nel 2021, anche in questo 2022 non si trovano. E sembra che non si troveranno ancora per parecchio tempo in questo 2022, per cui ho deciso di riproporre la stessa domanda che ho proposto l'anno scorso, ovvero, conviene comprare nel 2022 PlayStation 4 e Xbox One? La risposta a questa domanda, ragazzi, l'avrete dopo esservi iscritti al canale. E sì ragazzi, dovete aiutarmi in una qualche maniera ad emergere nella folta giungla di YouTube. Lasciate anche un mi piace, qualora il contenuto possa essere di vostro gradimento. Seguitemi anche sui social, in particolar modo su Instagram, condividete, attivate la campanella, insomma, tutte le procedure che dicono i più grandi content creator valgono anche per il sottoscritto. Bene, momento pubblicitario, come dico sempre, terminato. Continuiamo e cerchiamo di rispondere a questa domanda, ovvero se convenga o meno nel 2022 comprare PlayStation 4 e Xbox One. La risposta è sempre la stessa, per quanto mi riguarda, ovvero no. Per me non conviene comprarle, però c'è da dire una cosa, c'è un però. Come sempre, le esigenze di ognuno di noi sono diverse, in termini di gusti, in termini di disponibilità economiche, in termini semplicemente di non ho alcuna, non ho nessuna console, voglio comprarmi una console, parto da zero. E qui è questo il punto, diciamo, più importante. Se non hai una console, se parti per l'appunto da zero, che cosa fai, che consiglio posso darti in questo senso? Il consiglio che posso darti se parti da zero, perché è soltanto questo, diciamo, secondo me, l'inizio di una discussione, ragazzi, ovviamente se possedete una console, si presume che possediate una PlayStation 4 oppure un Xbox, o magari, ecco, nel caso un po' più particolare, ma non troppo, ovviamente, una Switch, ma in quel caso si aprono altri discorsi. Se non possedete una console, qual è il consiglio che spazio vi può dare? Diciamo, le dritte che posso darvi nel mio piccolo, Fermo restando, ovviamente, che tutto dipende dai vostri gusti e che nessuno deve mai giudicarvi e deve mai dirvi che cosa fare. Tutto, ovviamente, dipende da voi e da quelli che sono i vostri gusti e le vostre necessità. Questa è una premessa doverosa che va fatta. Però se vogliamo fare un'analisi, se vogliamo fare un discorso un po' più costruttivo, un po' più approfondito, allora le ipotesi possono essere diverse. In questo momento, ragazzi, anche se poi la stessa cosa, diciamo, ho detto l'anno scorso, non vi consiglio di comprarvi PlayStation 4 e Xbox One, quindi console di vecchia generazione. Perché? Perché, indubbiamente, io credo, insomma, che in quest'anno un po' più di reperibilità, di disponibilità per quanto riguarda le console next-gen ci sarà, ma soprattutto perché, e il discorso vale sempre così come valeva appunto nel caso del video che ho fatto già l'anno scorso, in termini di prezzo, in termini prettamente economici, se andate poi a vedere tutti quelli che sono i prezzi sui siti più importanti, più famosi, sui rivenditori online più famosi, non c'è troppa differenza fra le console di nuova generazione e quelle di vecchia generazione. E questo è un motivo importante, sicuramente. E non mi riferisco ai prezzi di nuova generazione dei bagarini, ovvero quelli che vendono gli sciacalli, che vendono la console a 800-900 mila euro, quindi il doppio rispetto al prezzo base, che vi ricordo, per quanto riguarda PlayStation 5, prendo la PlayStation, PlayStation 5 Digital è di 400 euro, per quanto riguarda la PlayStation con il lettore è di 500 euro, e per finire Xbox Serie X 500, alla Serie S ci arriveremo fra poco. Quindi non c'è grande differenza in termini di prezzo, e potete verificarlo, vi ripeto, andando a vedere appunto nei siti più rinomati, sotto questo punto di vista. Pertanto il consiglio che vi do è di pazientare a livello prettamente economico, anche qualora doveste trovare i classici annunci che magari ve la buttano a 150 euro la console, anche perché? Perché spendere 150 euro? Insomma, anche quei 150 euro, quei 200 euro potete tranquillamente risparmiarveli, ecco. Ma al di là del fattore economico, che comunque ha la sua importanza, possiamo fare una serie di distinzioni per quanto riguarda le diverse console, e cercare di muoverci meglio e capire che cosa fare. Sul fronte ad esempio Xbox, e poi parleremo ovviamente di PlayStation, ma partiamo sul fronte Xbox, c'è una console di nuova generazione, che in pochi considerano, o quantomeno non una grande fetta di pubblico considera, che è l'Xbox Serie S, che è la console, diciamo, di nuova generazione, più, meno potente dell'ammiraia della proposta Microsoft, ma che è a tutti gli effetti, come ho detto poco fa, una console di nuova generazione, e potete tranquillamente acquistarla a 300 euro, se non di meno. Per cui, il mio personale consiglio è che, se non avete delle preferenze, se non siete quelli che no, io Microsoft no, Xbox no, sono di tutt'altra fazione, quindi se non siete dei faziosi, se non avete delle preferenze, poi particolari, che possono esserci legittime, magari preferite i giochi Sony, date un'occhiata a Serie S, perché in termini di qualità-prezzo, se siete dei giocatori a tutto tondo, se siete dei giocatori a 360 gradi, secondo me è la proposta migliore, secondo me è la soluzione migliore per adesso, anche perché la trovate anche al di sotto dei 300 euro, e ragazzi, parliamoci chiaro, il prezzo di queste console di nuova generazione non è così eccessivo, quindi potete anche pensare di prendere inizialmente l'Xbox Serie S e magari fra qualche anno comprare per l'appunto una PlayStation, ed avere entrambe le console in casa. Quindi per quanto riguarda il lato Xbox, c'è Serie S, che vi consiglio vivamente. Per quanto riguarda invece il lato Sony, il lato PlayStation, in molti dicono, vabbè io intanto prendo la PlayStation 4, mi recupero tutti i titoli precedenti, faccio una sorta di backlog infinito, e sto a posto, intanto gioco a quelli. È vero ragazzi, ma è altrettanto vero che la stessa cosa potete farla su PlayStation 5, perché PlayStation 5 ha la retrocompatibilità con i giochi per l'appunto della PlayStation 4, pertanto acquistare una PlayStation 4, con l'idea di giocare intanto ai giochi che sono usciti su PlayStation 4, non ha molto senso di esistere, perché per l'appunto la stessa cosa potete farla su PlayStation 5, quindi in questo caso il discorso non regge più, anche se poi tutta una serie di prodotti sono tuttora supportati per PlayStation 4, l'ultimo Horizon Forbidden West ad esempio lo sarà anche God of War Ragnarok, quindi la PlayStation 4 comunque avrà un certo supporto per tutto il 2022, e chissà anche parte del 2023. Però sinceramente ragazzi, anche acquistare una PlayStation 4 per un prezzo, come ho detto poco fa, che magari da qualche, diciamo, in qualche annuncio sui social, su qualche sito più specifico, potete trovare anche a un prezzo minore rispetto a quelli che trovate sui rivenditori più noti, sinceramente per come la vedo io e per, diciamo, i consigli che posso darvi, non la vedo una soluzione eccellente, non la vedo una soluzione legata al buonsenso. Quello che posso dirvi, e torno a ripetere, se non avete dei pregiudizi di sorta, se non siete dei faziosi pro Xbox o pro PlayStation, prendete in considerazione diverse ipotesi, questi sono i consigli che vi do al termine, diciamo, di questa analisi. Uno, prendete in considerazione l'ipotesi di acquistare una serie S che è più facilmente, molto più facilmente reperibile. Con il Game Pass poi abbinato alla console, avete accesso ad un catalogo sconfinato di titoli. Oltretutto nel Game Pass ci sono molti giochi che vengono rilasciati il giorno del lancio, e per cui potete giocare anche i giochi nuovi, senza spendere quei 70 euro che ci vuole solitamente, per comprare un gioco nuovo. Oppure, nel caso in cui non volete a tutti i costi prendere in considerazione la serie S, c'è comunque la Nintendo Switch, che vi può offrire un qualcosa di diverso. È una console estremamente versatile, portatile, e anche da attaccare semplicemente a uno schermo, a un televisore. Per cui è una console, come ho detto poco fa, estremamente versatile. Oppure, come ipotesi finale, c'è il PC. E in quel caso, però, vi consiglierei di avere un budget molto sostanzioso da parte, perché il discorso PC vale, secondo me, il gioco vale la candela, ecco, soltanto se magari avete un certo budget, e quindi andate ad assemblarvi, andate a prendervi un PC che ha delle specifiche, diciamo, molto performanti, ecco, e quindi in quel caso, comunque, ci vuole un certo budget economico a disposizione. Di conseguenza, ragazzi, queste sono le tre strade che vi do. Se non volete prendere in considerazione nessuna di queste, il consiglio ultimo che mi sento di darvi è abbiate pazienza, allora, perché comunque sia, magari, nel corso dei mesi, sicuramente, qualcosa può muoversi, e la disponibilità potrebbe crescere, insomma, per quanto riguarda entrambe le console. altrimenti, e torniamo al discorso di inizio video, se non vogliamo, diciamo, seguire questa mia analisi, questo mio discorso, allora, tutto, diciamo, ruota intorno al vostro pensiero, al vostro gusto. Se in questo momento vi sentite di prendere una PlayStation 4 e un Xbox One, nessuno, ovviamente, ve lo vieta. Però, seguendo, per l'appunto, le dritte, le linee guida che ho cercato di tracciare in questo video, vi dico, prendete l'ipotesi di una serie S, prendete magari l'ipotesi di una Nintendo Switch come alternativa più esotica, chiamiamola così, oppure, se avete un budget a disposizione più sostanzioso, il PC, secondo me, è probabilmente la soluzione migliore, insomma, al netto delle preferenze di gusti per quanto riguarda PlayStation, Nintendo, eccetera, eccetera. Detto ciò, ragazzi, non pensavo di fare lo stesso video dell'anno scorso anche quest'anno, ma a quanto pare la situazione lo ha reso necessario, e quindi mi sono sentito di riproporre lo stesso discorso, fatemi sapere cosa ne pensate voi a riguardo ovviamente, che cosa avete deciso di fare in questi mesi, scrivetemelo ovviamente qui sotto nel box dei commenti, parliamone insieme, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti da Spazio.